Spero che questo sia il primo di un percorso e di un cammino ancora più integrato che possa coinvolgere altre persone e devo dire, credo che debba essere in una qualche maniera rappresentato pubblicamente come un esempio rispetto ad altre iniziative che possono sorgere in questa città da parte delle associazioni di enti che possano proprio aprire quelle porte di questa città anche a persone che probabilmente difficilmente arriverebbero a Macerata. Quindi grazie ancora una volta di quello che avete fatto. Agli ospiti intanto vi ringrazio di essere venuti e da questo punto di vista onoro la qualità sportiva, quindi un grande valore tecnico dei maestri che sono venuti e vi ringrazio per aver nomorato la vostra presenza nella città. Io mi auguro e sono certo, anzi che anche grazie ai nostri amici voi possiate sentirvi bene in questa città, ci piacerebbe che vi sentiste come se foste a casa, ma sono certo che i miei cittadini su questo saranno straordinari, sperando anche nello stesso tempo che questa visita possa essere un investimento, un modo per poter capire che è bello ritornare a Macerata e poter aprire un rapporto che si possa, ripeto, intensificare e allargare fra i due gruppi, le due civiltà e i due modi di vivere in questo giorno. Quindi, su questo, la mia domanda. Grazie. Macerata, giudocinque, non mi ha dato, mi ha dato un amore, ma mi ha dato un amore, 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 ma mi ha dato un amore, mi ha dato un amore, ma non mi ha dato un amore, ma veramente, che mi ha dato un amore, mi ha dato un amore, mi ha dato un amore, ma mi ha dato un amore, mi ha dato un amore. Ma ho fatto tutto, mi ha dato un amore. E effettivamente non mi ha dato un amore. E con la speranza e l'ospicio, che possiate portare nel vostro cuore un po di macerata, finché questo viaggio non so quanto durerà fino a domenica quindi questi giorni possono essere per voi un ricordo indelebile e bellissimo come se foste entrati in una favola io, quale sindaco di Macerata, i miei maestri vorrei donare quindi donerò il Cresto il nostro stemma di questa città con grandissimo piacere perché lo possiate portare con voi e che possa essere sempre nel pensiero di poter ritornare magari anche insieme a voi quindi ai due maestri l'amministrazione non ha è un'attacchietta l'ambiente è un'attacchietta e l'ambiente ringrazio grazie 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 la presentanza di tutto il gruppo per la vostra ospitalità per aver preso questo tempo per incontrare noi il sitaco, l'assessore e anche il Presidente, qui dicevamo. Poi mi sono sorpresa perché Alessandro adesso ha spiegato molto bene del judo, quindi senza che io dica qualche cosa sul spirito di judo, io ho capito che voi avete già appreso così la profonda conoscenza del judo. Ieri sera che siamo arrivati a Macerata stiamo già ricevendo tantissime attenzioni, cure, coppie e tutta la possibilità da tutti i membri del nostro bloggio di Macerata. non sono solo gli atleti, singoli o con la famiglia propri ma poco si sente che siete molto amici con l'altro e questa unione, questa armonia che avete, la collaborazione che avete per voi è bellissima. E io sto imparando che sarebbe bella bere così anche in Giappone. E io sono di ottavo, da un ottavo grado dell'attuale, poi di 10 anni onorario, e che non sono più praticante, però sono presidente dell'ex giudocca. L'università di Kakshokuro, l'università, ha compiuto 110 anni, come quest'anno, e anche giudocca 110, quindi quando è stato curato, già inizio c'era questo grado di giudocca dentro di questa. Grazie. 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 Di nuovo per tutti i vostri sforzi e per fare meglio questa città di Macerata. grazie. 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 Grazie mo'ha visto stamattina nella vista stamattina nella bellezza alle state ommi bui Kanye bzw comum, ma anche a una piccola parte di questa città, come una bellezza di questa città, ma noi aspettiamo che i giudocchi in Macerata abbiano visitato noi in Giapone ma anche anche il signore Sindaco. Grazie. Speriamo che si dice di appoggiungo. Speriamo un po' di soquine di nuovo. Ho avuto solo di sinergia. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione